I campionati del mondo un po' particolari, perché bisogna assolutamente entrare nelle prime 18 per poter poi sperare nella qualificazione olimpica. Ecco, Emily Armi al volteggio. Buono all'atterraggio. Sì, un buon salto, buona dinamica, buona tecnica, buona ampiezza. È un salto che comunque non le consentirà di avere i punteggi altissimi che abbiamo visto prima con le americane, perché è un punteggio di partenza più basso, parte infatti da 5 punti, quindi da 15.